Ciao a tutti. Come stati? Come sai, oggi è domenica e ogni domenica registro un video per parlarvi un po' dei miei progressi nell'italiano. E la mia settimana è stata bene. Ho studiato un po' ogni giorno, ho avuto lezioni, ho imparato cose nuove. Però oggi, specialmente, volevo fare una cosa un po' diversa. Io ho iniziato lo studio dell'italiano quasi due anni fa, un anno e qualcosa. E io non ho mai guardato la mia prima lezione, perché ho iniziato il progetto di italiano e ho registrato tutte, non tutte, però buona parte delle mie lezioni di italiano. Quindi voglio condividere il mio schermo e vedere un po' della mia prima lezione di italiano. Io sono un po' nervosa, credo che si dice così, perché so che ho fatto molti progressi, ho fatto molti progressi, però non so quanto in realtà. Quindi guardiamo insieme forse. Condivido il mio schermo. Quindi, benvenuto, Alessandro. Sono molto contenta. Sono molto contenta di essere qui con te questa sera per me, però questa mattina per te. Sì? Oh, questo è veramente buono. Credo che prima di dire questo io ho fatto un riassunto. Sì, ho scritto tutto, ho memorizzato, però bene. Sì, è mattina nelle Filippine. Sì, 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 sì. Quindi vorrei dire grazie per... Vorrei dire grazie. Oh, io parlavo bene. Ho memorizzato questo. Sì, grazie per partecipare. Sì, partecipare. Partecipare in questo mio progetto italiano. Quindi grazie. Grazie a te, Camilla, per contattarmi ed è un piacere conoscerti. Sì, 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 sì. Anche a me, forse. Come posso dire in italiano the same? La stessa? Eh, lo stesso. Lo stesso. Lo stesso. Quindi utilizziamo un po' di minuti per fare una piccola introduzione. Io sono veramente sorpresa. Il mio italiano era buono già. Non ho imparato tanto quanto pensavo. Ah, vorrei iniziare? Sì. Ah, vorresti iniziare o vorrei... non vorresti, tu vorresti. Vuoi iniziare tu o inizio? Allora, sì, sì. Vuoi iniziare? Ah, sì. Allora, io vivo nelle Filippine da due anni e insegno su iTunes. Io spesso... Sorry? Ah, fretta. Fretta. Abbiamo molta fretta. Io mi ricordo del primo computer che ho avuto. Io mi ricordo. Io mi sono ricordata, credo che si dice così. Ah, era molto lento. Molto lento. E io pensavo che era... Io già utilizzavo il imperfetto. Wow! Molto rapido. Veloce. Molto rapido, però... Però adesso io so che quello computer era lento e adesso io non voglio aspettare... aspettare quando un device... Uno strumento. Un strumento. Un strumento. Non è veloce. Veloce? C'è uno? Sì, veloce. Quando un strumento... Strumento. Strumento. Quando un strumento non è veloce. Io sto... però, però... Sì, vogliamo le cose subito. Abbiamo molta fretta. Wow! Io pensavo... Interrompo qui. Io pensavo che sarebbe... sarei... sarei... Io pensavo che sarei veramente sorpresa perché il mio italiano era troppo male. Però, in realtà, forse sì, io continuo a vedere, forse... È buono! Però sì, oggi sono un po' più sicura delle parole che voglio dire. Sì. Sì. Bene. Sono felice. Quindi era questo. Non è... La mia idea non è fare un video troppo lungo. È fare una... Una... Chiacchierata leggera. Quindi, alla prossima. E... Ci vediamo!